Io comunque devo dire che quando sono arrivato ho trovato un gruppo di ragazzi a posto, sinceramente non ho cambiato molto, ho sfruttato molto il lavoro che era stato fatto fino a quel momento. Ho dei ragazzi che lavorano con buone motivazioni, ragazzi che sanno di pallavolo, siamo serie B ma devo dire che non ho trovato differenze particolari soprattutto nei concetti che hanno questi ragazzi. E' facile con loro preparare le partite, viverle e cambiare delle cose durante la gara. Oggi penso che Tia Terzani ci abbia un po' aiutato facendo tanti errori, soprattutto nel primo set, mentre li avevo visti meglio nel video. Quindi è più facile del previsto questa partita? Sì, sì, sicuramente più facile del previsto. Noi ci siamo limitati a fare delle cose normali e a qualche punto, purtroppo, ce l'hanno regalato loro, perché secondo me fino adesso ha fatto un ottimo campionato. Cosa le state dicendo in particolare della sua squadra in questo periodo? Io quello che stavo dicendo prima sono ragazzi che hanno una buona cultura pallavolistica, cioè facile. Non è che devo, non ho cambiato tante cose, non è che non credo di aver detto delle cose che loro non avessero mai sentito. Quindi sanno giocare. Oggi ad esempio ho fatto molto poco in partita, hanno gestito bene le situazioni complicate. Poi tra di loro si conoscono molto bene, conoscono il campionato. Quindi insomma, quando poi l'avversario come oggi ci aiuta diventa tutto più facile. Ecco, coach, questa è una bella dimostrazione di forza, comunque va bene che l'avversario vi ha ovviamente aiutato un pochettino, tra virgolette, però siete stati bravi anche voi a non farli mai tornare in partita. Un bel segnale questo, anche per il finale di stagione. Sì, sì, una parte è sempre all'inizio dei set. Se tu all'inizio non commetti tanti errori, riesci ad avere un buon ritmo, puoi già così incanalare il set in modo favorevole. Per il resto, insomma, è un gioco per certi versi più semplice di quello che possa sembrare. Se uno già non fa tanti errori e ripete magari anche tante volte delle situazioni che danno punti, le ripete finché funzionano, insomma, le partite sono più semplici.